ciao ragazzi benvenuti alla ricetta di toni ragazzi buon pomeriggio a tutti benvenuti oggi facciamo una ricetta diciamo non è proprio una ricetta ma bensì è un dolcetto che noi facciamo e la verità l'ho visti in queste notti sul web questi dolci che si fanno con i marshmallows che sono questi qua bianchi che si fanno in America ovvero gli smores questo dolce che quando voi vedete a volte nei telefilm che fanno arrostito il marshmallow vicino al falò queste cose qua nei telefilm li abbiamo visti tante volte e niente ora noi li facciamo diciamo la versione diciamo più europea perché abbiamo gli ingredienti qui in Europa gli ingredienti che ci occorrono non abbiamo i biscotti che usano loro che è una sorta di crackers neutro il cioccolato che loro usano è quello sottilissimo che è la marca americana che ora mi sfugge e quindi l'occorrente che ci occorrono ci occorrono i marshmallow bianchi del cioccolato ho preso questo qua della milk e dei biscotti tipo oro saio ho preso l'oro saio quindi la prima operazione che dobbiamo fare apriamo gli allo saio li mettiamo in questa teglia mettiamo un pezzettino di cioccolato sopra il marshmallow sopra 180 gradi nella funzione grill del forno appena il marshmallow inizia a colorarsi ci mettiamo l'altro biscotto sopra lo chiudiamo e lo serviamo quindi diciamo non ci vuole proprio niente per farli ok quindi prepariamo i biscotti e ci vediamo dopo a più tardi ecco qua ragazzi avete visto in questo modo qua abbiamo posizionato tutta la barretta di cioccolato sotto in questo modo qua e poi mettiamo il marshmallow sopra ora nel forno 180 gradi appena si inizia a caramellare si inizia a fare marroncino mettiamo l'altro biscotto sopra e lo chiudiamo quindi a mo' di panino e si mangiano quindi sono dei torcetti degli sfizzetti che si fanno in america e oggi noi li stiamo facendo qui alle ricette di toni va bene andiamo al forno dai a più tardi voilà ragazzi e dopo dieci minuti che li abbiamo messi nel forno si mette il biscottino sopra in questo modo qua si applasta e si mangiano ok li mettete tutti quanti sopra così e a mangiare i nostri s'mores vedete in questo modo qua mettete tutti i biscotti sopra vedete schiacciate e mangiate ok questo è uno sfizzetto che si fa in america lo usano anche per il 4 luglio i ragazzi quando vanno al camping voi sapete in america i ragazzi non hanno l'abitudine di andare in vacanza come facciamo noi però fanno i campus fanno i campi sestivi quindi fanno queste cose qua e quindi fino al classico falò che fanno fanno gli s'mores ecco qua io li sto mettendo altri due così ok completate l'operazione e li mangiate eccolo qua in diretta ecco qua lo s'mores ragazzi al prossimo video con le ricette di toni finisco a fare gli altri e li serviamo ciao ciao a tutti al prossimo video oggi abbiamo fatto gli s'mores americani ok ciao ciao a tutti ciao a tutti